Pene l'energia, pene l'energia, l'elettricità, che non costa un cazzo. Pronto? Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito. Cosa? Cosa? Sei pure sorda. Non fa qualche scherzo, eh! Questo è il servizio di Tutela Energia, che le farà risparmiare un sacco di soldi. Prema il tasto pezzo di merda per poter proseguire. Pene l'energia. Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito. Buongiorno. Chi parla? Se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto, buco del culo. Che cosa? Buco del culo. La puttana da mamma, la secola, la puttana da mamma. No. Pene l'energia. Oh. Chi è? Buongiorno da Pene l'energia. Ma non lo conosco? Siamo il nuovo servizio di Tutela Energia per gli italiani che tra pochi mesi saranno nella merda. Ma con chi sta parlando lei? Scusa, guarda che noi siamo a Songa Vazio in un paesino. Songa cazzo? Ma dove sta chiamando che paese? Stiamo chiamando, Songa cazzo. Ma che paese chiama? Ma, porco il demonio, ho detto, Songa cazzo. Pene l'energia. Oh, si deve reale. Io gli ho detto, senta, chi chiama lei? Io chiamo il cazzo che mi pare, anche se sono una voce programmata. Ma, ma, io sono una signora di 63 anni. Bene signora, sono qui per offrirle il prezzo migliore per salvarle il culo. Eh, pota certo è. Vecchia bastarda. Ma no, no. Pene l'energia. Oh, come? Eh, pota certo. Pronto? Buongiorno, le stiamo per dare, la lettura della sua prossima bolletta. Vi ricordiamo che, su Spotify è uscito, Maranza, il nuovo album di Paolo Nois. La sua prossima bolletta sarà di euro, 596,40 centesimi. Se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto. Ora, la sfondo. Pronto? Buongiorno, le stiamo per dare, la lettura della sua prossima bolletta. Pronto? No, no, andrà a far fare, sta parlando lui, senti. Questo servizio è gratuito. Farà, risparmiare fino al 50%, mannaggia, spene l'energia. Brutto pezzo di merda. Sa che risparmiare, ha detto brutto pezzo di merda, pronto? Lei ha scelto di non risparmiare energia, imbecille. La pancola la morta da mamma, te. Brutto pezzo di merda. No, maia. Pene l'energia. Oh, no. Pronto? Lei è, un maleducato figlio di puttana. No, 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 no. Grazie, e buona, Pasqua. Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo. Ah, pure lui. Pene l'energia. Ah, 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 ah.